cari amici cominciamo allora come al solito se non avete visto i miei video se non mi conoscete iscrivetevi al canale alberto caccialanza su youtube vi raccomando guardate i video da un ora e mezza due ore e prendete appunti ho creato una cartelletta posta per voi intitolata universo ci sono quattro video da un'ora e mezza due ore prendete appunti vi raccomando perché questi questi video si collegano a quello all'argomento di oggi quindi questi video nella cartelletta sono una base di conoscenza molto molto semplice molto semplice che serve ad affrontare l'argomento di oggi senza questa base sarà un po difficile capire quello di cui parlo oggi ok quindi guardatela questa cartelletta e prendete appunti vi raccomando oggi parlo del progetto blue beam oggi per la prima volta parlo proprio del progetto blue beam e la questione è molto molto seria cioè negli ultimi tre anni e mezzo le persone alcune persone che non seguono i messaggi mariani che non seguono il vangelo hanno capito che tutto quello che è successo è stato completamente organizzato dalla alla z però sta succedendo tanto altro sta succedendo tanto altro e per questo che vi dico sempre quando guardate questi video da un'ora e mezza due ore prendete appunti io dopo so che a casa non li prendete gli appunti ma è necessario avere dell'ordine mentale per affrontare quello che sta succedendo cominciamo a vedere i messaggi di apparizioni mariane che ci sono in varie parti del mondo giacarei apparizioni del brasile 2016 il tempo si compie miei figli e in breve tutte le profezie i messaggi che io vi ho dato durante tutti questi anni si compiranno luz de maria apparizione argentina 2012 come una madre vengo a voi continuamente e continuerò a farlo solo che non vi rendete conto che il tempo passa e che giunge l'istante supremo in cui tutto si prepara per ricevere la seconda venuta di gesù ci siamo 40 anni apparizioni calabria 2016 figli miei ancora oggi ciò che vi chiedo è di continuare ad essere perseveranti nella preghiera poiché il momento che state vivendo è il momento più duro ma è il finale è il finale di colui che sta attannagliando le vostre vite quindi sta tornando gesù sulla terra però san paolo nella lettera ai tessalonicesi che cosa aveva detto che prima della seconda venuta di gesù si manifesterà il figlio della perdizione l'anticristo e l'anticristo poi verrà esiliato da questo mondo perché tornerà gesù e lo esilierà da questo mondo quindi a breve tornerà gesù sulla terra e questo vuol dire che fra poco tempo si manifesterà l'anticristo sulla terra nei testi sacri cosa è scritto che nell'ultimo nel periodo finale l'anticristo satana manifesterà tutto il suo potere e cercherà di ingannare anche gli eletti ma non ce la farà naturalmente o se no si perderebbero tutti quanti però cercherà di ingannare anche gli eletti quindi la sta facendo veramente grossa e ripeto io ho visto alcune persone che non guardano i messaggi mariani non guardano il vangelo hanno capito che tutto quello che sta succedendo in questi ultimissimi anni è stato organizzato però io mi sono sempre chiesto ma queste persone ce la faranno a capire cos'altro deve succedere avranno discernimento quando si manifesterà il progetto blue beam riusciranno a capire sarà un problema questo quindi oggi parliamo del progetto blue beam e per affrontare questo argomento come regola numero uno mettete un tassello fisso nella testa fisso cioè satana è imitatore di dio satana è imitatore di dio per esempio per esempio noi andiamo a messa con con il sacerdote c'è la bibbia e poi c'è il sacrificio eucaristico mangiamo il cuore ci nutriamo del cuore di gesù infatti per esempio l'ostia la particola di lanciano si è trasformata in carne hanno fatto l'analisi a questo pezzo di carne hanno visto che era un muscolo del mio cardio cuore satana è imitatore di dio i satanisti fanno le messe nere c'è il sacerdote nero c'è la bibbia satanica e fanno dei sacrifici sacrificano degli animali come per esempio i gatti e poi gli mangiano il cuore lo fanno ci sono sette sparse in tutto il mondo soprattutto in sud america e cosa fanno anche si mettono con il sacerdote nero fanno dei rituali con un sacerdote nero con 12 partecipanti per imitare gesù cristo e i 12 apostoli poi i cristiani pregano affinché le persone guariscano dalle malattie pregano affinché una coppia un matrimonio una famiglia rimanga unita invece i satanisti si radunano anche di notte e magari alle tre di notte e pregano affinché una persona si ammali pregano affinché il matrimonio si divida satana imitatore di dio carbonia apparizioni sardegna 2021 questa è l'ora del tuono il cielo è per avvertirvi è la giustizia di dio sarà grande la giustizia di dio verso gli uomini che lo hanno tradito su coloro che si sono dileguati nelle tenebre e hanno saziato satana attenzione hanno saziato satana dei loro doni si sono offerti a lui oggi saranno con lui all'inferno adesso vediamo un attimo questo video più di dieci anni fa io fui quasi sacerdote nero di una seta satanica quando vedi tutto il potere che avevano per muovere le cose dentro di me qualcosa crebbe come una droga come una sete di conoscenza volevo poter fare quello che il sacerdote nero faceva volevo sapere come sollevavano gli oggetti mi si immersi completamente e iniziai a leggere libri di satanismo libri di stregoneria quell'uomo quando gli disse cos'era successo venne e portò un gran libro il libro del capro la bibbia nera allora iniziai a voler sapere tanto che satana in tre mesi mi diede il potere di parlare l'italiano di parlare l'aramaico di parlare l'ebraico e molte lingue morte ai sacerdoti ci vuole molto tempo molti anni per poter approfondire e conoscere queste lingue e mi diede anche altro mi diede il dominio sul potere della mente umana che cosa vuol dire che attraverso la magia mi dava modo di controllare l'altra persona e che quest'altra persona facesse ciò che io volevo quindi siccome mi vedevo ormai con questi poteri poiché mi sentivo già il super uomo volevo sapere di più era tanta la mia sete di conoscenza che arrivai ad essere il secondo al comando della setta quando quando ti consacri a Satana diventi un iniziato e diventi schiavo del demonio e devi operare a suo favore e devi fare quello che dice lui quello che dice lui però acquisisci anche delle potenzialità per esempio abbiamo sentito questo signore la sua testimonianza aveva fatto parte di una setta satanica penso in Sud America penso e nell'arco di pochissimo tempo ha imparato a parlare varie lingue anche delle lingue antiche sconosciute nell'arco di pochissimo tempo poi chi si consacra al demonio può acquisire altri doni per esempio può imparare la matematica in pochissimo tempo può avere il controllo sulla mente delle altre persone può lanciare avere dei doni e avere il potere di lanciare dei malefici o può anche avere il carisma aumentare il carisma nei confronti delle donne e avere più successo con le donne questo è quello che fa il demonio 2021 sempre carbonia questa storia è per finire il tempo nuovo vi mostrerà grandi meraviglie in Dio che vi elargirà i suoi doni i suoi doni con i quali voi sarete i suoi strumenti le sue mani la sua parola sarete i nuovi apostoli dell'era nuova Marco 16 Vangelo or questi sono i seni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporanno le mani agli infermi ed essi guariranno quindi gli apostoli degli ultimi tempi acquisiranno delle potenzialità e diventeranno come ha detto questo messaggio e come dice il Vangelo le mani di Gesù cosa vuol dire che faranno le stesse cose che faceva Gesù per esempio scacceranno i demoni guariranno i malati guariranno i sordi gli zoppi ciechi muti passeranno attraverso i muri risorgeranno i morti e ha detto anche che saranno la parola la parola di Gesù quindi gli apostoli degli ultimi tempi acquisiranno dei doni di intelletto di percezione ci sono già delle persone presenti in questo mondo che hanno delle potenzialità grazie a Gesù Gesù gli ha dato dei doni per esempio se una persona chiama Tina Fasanella e gli dice ho perso un oggetto Tina Fasanella riesce a indicarti dov'è l'oggetto che hai perso perché quando la persona ti indica a Tina l'oggetto che ha perso Tina sente l'energia del pensiero riesce a focalizzare l'oggetto e ti dice dov'è per esempio per esempio una signora aveva perso il sondolo di Tiffany ha chiamato Tina dispiaciuta e Tina le ha detto il ciondolo di Tiffany ce l'hai tra il sedile della macchina e il freno a mano oppure un'altra signora aveva perso l'anello ha chiamato Tina e Tina le ha detto ce l'hai in un contenitore di pelle nella stanza tal dei tali in casa tua questo è un dono potentissimo che ha Tina poi Tina Fasanella riesce a leggere le persone per esempio aveva fatto una conferenza in sud Italia e aveva partecipato un ragazzo con sua mamma il ragazzo con un tono un po' da spaccone è andato lì da Tina e gli ha detto io non ti credo e allora Tina lo ha letto gli ha raccontato dei particolari della sua vita ha detto gli ha raccontato che lui aveva fatto una rapina e l'aveva fatta veramente gli ha raccontato anche i particolari della rapina e quindi questo ragazzo è rimasto lì sballordito ha detto adesso ti credo ho cambiato idea gli apostoli degli ultimi tempi acquisiranno dei doni enormi quindi Satana è imitatore di Dio cioè Dio dà potenzialità i doni ai suoi apostoli Satana dà delle potenzialità dai doni ai suoi sacerdoti neri sempre il solito discorso Luz de Maria 2015 non dimenticate il cosettino non è un'invenzione dell'uomo per aiutare il mio popolo non vogliono aiutare le persone ma viene impiegato per sottrarre le capacità alle persone e per fare in modo che l'uomo si consegni nelle mani dell'anticristo cioè le persone che saranno timbrate diciamo così dall'anticristo con questo cosettino piccolissimo avete capito che cos'è acquisiranno delle comodità e delle potenzialità per esempio adesso in Svezia sta prendendo campo in un modo abbastanza massiccio questo cosettino piccolissimo e cosa hanno detto cos'hanno detto che ti darà naturalmente delle comodità come per esempio riesce a leggere i tuoi dati personali riesce a vedere se stai bene o non stai bene riesce a leggere la tua temperatura riesce a vedere se sei depresso riesce a vedere se sei depresso così ti dicono così anticipiamo il suicidio poi riesce a vedere il tuo stato di concentrazione così ti aiuta nella concentrazione e puoi affrontare lo studio agevolmente oppure riesce a farti dormire meglio così puoi affrontare meglio la giornata che viene naturalmente queste sono tutte le comodità che proporranno dopo Satana è astuto ingannatore ti dà lo zuccherino e poi ti porta nel baratro poi darà anche delle potenzialità darà anche delle potenzialità per esempio una persona deve affrontare una difficoltà con quel cosettino stimolano un'iperproduzione di adrenalina così tu affronti la situazione con maggior forza oppure puoi potenziare la memoria oppure puoi connetterti al computer il computer legge il tuo pensiero il tuo pensiero viene scritto sul computer puoi entrare in un programma del computer oppure col solo pensiero puoi accendere l'automobile puoi accendere la luce puoi accendere il microonde l'antifurto di tutto oppure oppure le persone che hanno un'area del cervello danneggiata sono rimaste paraplegiche con questo cosettino ti diranno che stimoleranno elettricamente la parte del cervello danneggiata questa parte del cervello guarirà e in conseguenza le persone ricominceranno a camminare oppure le persone con questo cosettino potranno leggere le informazioni di altre persone che hanno vicino e queste non sono cose che ho detto io queste sono cose che hanno detto dalle persone che si vedono in vari video non me le sono inventate io quindi i timbrati dall'anticristo i segnati dall'anticristo con questo cosettino saranno miracolati oppure saranno potenziati saranno potenziati momentaneamente dopo se ne pagano le amare conseguenze naturalmente Carbonia 2017 ella consegnerà nel suo mandato avuto da Dio Padre lo Spirito Santo e i Suoi figli essi porteranno il segno della gloriosa croce sulla fronte saranno luminosi nell'amore entreranno nella potenza dell'amore e diverranno amore nell'amore destando rimpianto verso quell'umanità che si è allontanata dal Dio creatore e che vorrà essere come loro essere divino nel divino quindi le persone che saranno segnate da Gesù Cristo con la croce sulla fronte grazie allo Spirito Santo saranno divino nel divino cosa vuol dire la stessa cosa di prima che ho detto che acquisiranno faranno le stesse cose che faceva Gesù infatti Gesù che cosa aveva detto voi siete dei e farete cose più grandi di me quindi scacceranno i demoni guariranno i malati i sordi i ciechi leggeranno nel pensiero le persone come faceva Gesù acquisiranno tante potenzialità quindi Satana è imitatore di Dio i segnati da Dio acquisiscono delle potenzialità i segnati dal demonio dall'anticristo acquisiscono momentaneamente delle potenzialità poi ne pagano le conseguenze comunque Satana è imitatore di Dio di Dio di Dio Grazie a tutti.